buongiorno a tutti allora dobbiamo fare il report del primo giorno report del primo giorno è che la la gopro era scarica perché a quanto pare l'ho lasciata accesa in aereo e quindi non l'abbiamo usata neanche un po quindi vi raccontiamo questo primo giorno a new daily com'è andata fai giù è strana c'è meno povertà di premissa da un poca e tante 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 distanze in macchina un po troppo tanta 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 e buon niente abbiamo visto due tre cose carine ci sono piaciute però belle belle comunque bello è bello diversa da quello che ci siamo aspettati che ci aspettavamo però beh un tempio molto bello dove andavano giù tutti i scalzi pure sulla moquette e basta siamo ancora a un fatto deciso finale qui non ci sbilanciamo e quindi rimandiamo i giudizi a domani ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti 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 a tutti